Ormai l'avete capito, il mercato vi offre veramente ragazzi un ventaglio di scelte enorme. Diesel ibrido, benzina ibrido, ibrido plug-in, ibrido full, mile hybrid, benzina, diesel normale e benzina normale ovviamente. Poi abbiamo carburanti alternativi come appunto GPL e metano e volendo ci sono addirittura l'idrogeno, ma queste sono ovviamente motorizzazioni che sono usate pochissimo. Comunque veramente a confronto a qualche anno fa abbiamo una scelta che è enorme ed è molto difficile scegliere, soprattutto se non sappiamo effettivamente cosa stiamo comprando. E in fondo l'uomo non è lungo di queste sfide, no ragazzi? Perché basta vedere lo stress che abbiamo quando andiamo a comprare i vestiti e ci troviamo una marea di scelta e non riusciamo più a capire che cazzo dobbiamo portarci a casa o ci portiamo a casa delle cose del tutto inutili, supermercato idem. Per cui quando andiamo a comprare la macchina abbiamo la stessa sensazione, nella sensazione di un capricciorlazzo e di non sapere effettivamente qual è la scelta giusta. Allora in questo video parliamo un attimino di come poter scegliere nel caso fossimo interessati una vettura GPL e di sapere quali sono i pregi e i difetti. Inoltre, signori me, approfondiremo insieme questo motore qua, completamente smontato, un caso di guasto dove secondo me il cliente non era proprio consapevole cosa volesse dire acquistare un'auto GPL. Quindi state incollate al video perché ne vedremo delle belle. Ma belle belle. Ah ragazzi, una cosa importante. Io i video li faccio praticamente un sabato pomeriggio, come oggi, dopo una settimana di lavoro infernale, oppure la sera tardi. Quindi perdonatemi se ogni tanto faccio qualche strafalcione, ma penso che sia normale. E tra l'altro è bello avere dei video un po' genuini, no? non tanto costruiti. Quindi andate pure avanti con il video e spero vi piaccia. Partiamo dai pregi. Allora, le vetture GPL sicuramente hanno un grande pregio. Per ora, dico per ora, perché poi quello che dicendono i signori Lenalton non lo sappiamo, ma per ora sono vetture che non vengono, a quale non gli rompono le scatole. Cioè hanno più o meno carta bianca sul girare nelle città, sul girare ad esempio nelle zone a traffico limitato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è un grande vantaggio. Io ad esempio ho una vettura GPL e mi trovo benissimo, perché non ho il pensiero di dove devo andare e dove non devo andare. Sì, è vero, ci sono dei garage dove c'è scritto GPL e non potete entrare, ma io sinceramente non ci ho mai neanche fatto caso. Se ci sono entrato mi è sempre andata bene, lo so, molti non mi hai prese. Quindi quello è un problema secondo me passabile, ecco. Secondo vantaggio, i carbonanti alternativi come il GPL mantengono molto pulito l'impianto di lubrificazione del motore. Attenzione, l'impianto di lubrificazione, non il motore, i problemi poi ne parleremo, poi ne parleremo perché siete curiosi, lo so. L'olio motore. Difatti se chi ha una vettura GPL lo sa, dopo svariati chilometri controllate l'olio ed è ancora molto pulito. Questo perché il carburante è un carburante appunto pulito che durante la combustione non produce grandi quantità di furigine e non vale a emulsionarsi con l'olio. Quindi questo è il secondo vantaggio. Terzo vantaggio, ovviamente, il costo. Fino a prova contraria, non ditele a quelle del metano nell'ultimo periodo, non ho preso una stangata della madonna, ma ora questo non è il video, il GPL ha un costo accessibilissimo ed effettivamente è rimasto così ancora da tanto tempo e ancora adesso lo è, nonostante i carburanti avessero avuto un'impennata. Passiamo adesso agli svantaggi. Sicuramente c'è più manutenzione perché come diceva Henry Ford e se era lui, se non era lui, qualcuno lo diceva, ciò che non c'è ne si rompe. Quindi noi dobbiamo pensare che all'interno di un impianto GPL c'è il doppio dei componenti. Non sono 4 in teore, sono 8. E attenzione, ci sono macchine che ne hanno già 8 di loro su un 4 cilindri. Parliamo, diamo per scontato che il motore sia 4 cilindri. Quindi 8 più 4 sono ben 12. Ogni tanto sento dei rumori là dietro, se procuro che ci sia qualcuno... Lavorare troppo fa male. Comunque, 12 iniettore. Quindi capite che possono guastarsi 12 iniettore. Ci sono il riduttore, c'è la bombola, c'è il livello, ci sono i simulatori perché ogni volta che facciamo il pieno devono azzerare il livello della benzina, se no la macchina, il livello della benzina sul quadro andrebbe giù, ma in realtà voi state usando il carburante nel serbatoio del GPL. Insomma, i componenti sono molti e quindi rischiano di rompersi. Altro svantaggio, e qua arriviamo un attimino, andiamo un po' più nello specifico, sono le valvole, o meglio, la natura del carburante del GPL, perché il GPL, bruciando, alza molto le temperature. Possiamo benissimo mettere un impianto iniezione gossoso o impianti che, mentre sulle alti regimi vanno a iniettare benzina per abbattere le temperature, ma mediamente, mediamente, le temperature di combustione del GPL sono molto più alte. Ed è questo il punto su quale poi si centra questo video, o qua una macchina a quale abbiamo fatto questo tipo di lavoro, che ha completamente bruciato le valvole. Adesso metto i guantini, paura, eh? Quante sexy in questo momento. Mettiamo i guantini e vi faccio vedere un attimino cosa è successa alle valvole. Faccio vedere col solito zoom. Allora, eccole qua. Si vedrà poco, ma adesso poi accendiamo la luce e ve lo faccio vedere. La superficie sopra non è più molto liscia qua. In pratica, le alte temperature di combustione hanno bruciato le valvole, soprattutto quali? Di scarico, non di aspirazione, di scarico. Perché accade questo sui motori GPL? Allora, la prima concezione che dobbiamo capire è che il motore, tantissime volte, nella maggioranza dei casi, è nato a benzina. È vero che vi dicono ah, ma l'impianto è uscito dalla casa madre. Ma la casa madre cosa ha fatto? Ha preso un motore di benzina, ha visto che c'è la richiesta GPL, ha detto vabbè, schiaffiamoci su un impianto GPL, senza star troppo lì. Alcuni, infatti, non mettono neanche delle valvole di scarico rinforzate, ma usano semplicemente delle valvole non in acciaio che a volte durano un'inezia. Parliamo anche di 40.000 km, che è veramente, veramente poco. Ok? Quindi primo punto. E questo punto si porta con sé altri problemi. Ad esempio, nei collettori di aspirazione il gas dovrebbe essere iniettato in una certa maniera, no? Ok? E la posizione è molto importante. Com'è importante che ha la posizione degli iniettori? Questa è un'altra chicca nell'impianto GPL, perché gli iniettori dovrebbero stare, adesso se li trovo, perché sono smontati da qualche parte, aspettatemi qua, eccoli qua, i nostri iniettori GPL, ok? Non vengono montati così, perché la posizione di montaggio secondo le case costruttrici, nella maggioranza dei casi tutte non le so ragazzi, io sto facendo un discorso generale, è non essere montate così. Quando montano le case costruttrici, danno le linee guida, ok, ai montatori, ma cosa succede? Che loro prendono gli appalti, i soldi come al solito comandano, e quindi li mettono non come si devono mettere, ma nella posizione più comoda. E stessa cosa, i fori nel collettore, vi faccio vedere il collettore. essere, ok, questo è il collettore di aspirazioni nel caso di quest'auto qua, dovrebbe essere, ok, dovrebbero essere il più vicino possibile. Poi andremo a vedere che quelli benzina, quelli benzina sono molto più avanti di questi, per cui anche qui ci sarà un piccolo ritardo, e attenzione, in questa macchina sono già messi abbastanza bene, in altre, dove appunto non c'è spazio, li vanno a mettere ancora più avanti, con nuovi ritardi di combustione. è vero che avere l'iniezione del gas permette di miscelarsi bene, ma è anche vero che non è sicuramente la posizione più comoda dove andare a fare i fori, per cui tante volte poi li spostano e li mettono semplicemente dove sono più comodi. Tanto la macchina va, sì, però non va benissimo. E perché non va benissimo? Perché si bruciano queste maledette valvole che mannaggia l'ho persa e che sono andate a finire. Va bene, prendiamo un'altra, ok, perché si bruciano queste maledette valvole. Adesso vi faccio vedere il dettaglio perché non ve l'ho fatto vedere prima. Allora, se vedete, vedete la superficie che non è più bella liscia, ma ha questi puntini, neri scuri, neri carri, ecco, questa è una valvola bruciata. Tornando alla nostra storia del GPL e delle valvole, abbiamo detto il primo obiettivo è per natura del gas. Il gas brucia a temperature più alte, le case costruttrici prendono dei motori a benzina e li adattano a GPL senza a volte neanche cambiare le valvole e metterle più rinforzate, quindi prima cosa da fare è accertarsi che le valvole siano state messe rinforzate. Questo vi garantisce sicuramente di avere una durata maggiore. Non sono 50.000 ma sono 120.000. E poi dobbiamo capire un'altra cosa. Come possiamo fare per, diciamo così, ridurre ancora di più il consumo delle valvole? Beh, sicuramente una buona norma è comunque fare la manutenzione e finì non ci piove. Sempre per le valvole possiamo andare a inserire all'interno dell'auto un piccolo serbatoio con un lubrificante, questo vale soprattutto per gli aspirati, che va a iniettare del liquido all'interno del collettore di aspirazione in modo tale da lubrificare e abbassare le temperature di combustione appunto. Anche perché vi ho detto prima, si brucia a temperature più elevate e non ha l'effetto di, essendo la benzina nebulizzata, la benzina nebulizzata sulla valvola va a tirare fuori il calore, ok? E questo poi è la fine che fa aumentare le temperature di combustione. Ma andiamo avanti. Dobbiamo mettere in conto anche che ogni dieci anni dobbiamo rifare la bombola, attenzione per il metano perché ci sono delle macchine con le bombole indette in fibra a Volkswagen ad esempio che ogni due, dopo i quattro anni, ogni due anni dovete fare la revisione delle bombole ed è una menata assurda. Volkswagen le aveva fatte per il mercato tedesco in cui questo obbligo non era in vigore e non l'è tuttora mentre in Italia ci dobbiamo assorbire questa menata quindi attenzione se comprate queste sole vale sempre la buona norma di non usare tantissimo la vettura a GPL soprattutto in autostrada dove la macchina raggiunge temperature molto elevate a livello di scarico. Ragazzi mia prova ma giusto l'altro giorno una vettura GPL con sensore sullo scarico quindi potevo vedere le temperature raggiungeva al minimo delle temperature di circa 70-80 gradi in più a GPL che a benzina e questo in una condizione di carburazione ottimale perché un'altra cosa che bisogna capire è che la carburazione a GPL spesso sfasa un po' perché magari si riduce il livello del serbatoio quindi la pressione viene meno il riduttore che è meccanico non è digitale quindi lui butta sempre a una pressione in base a come giriamo la vite sulla membrana se la pressione a monte cambia cambia un po' che lui quindi non è precisissimo un po' che spesso e volentieri è ignorata è ignorato il controllo della carburazione attraverso questa vitina che troviamo sul riduttore del GPL spesso rarissime volte non l'ho vista ma la maggior parte dell'impianto ce l'hanno ok la carburazione si altera e quindi andrà addirittura ad aumentare ancora di più le temperature perché se è magra le temperature per appunto essendo magra c'è poca benzina poco GPL quindi va a lavare poco il cilindro e le valvole e si aumentano le temperature se è grassa fino a un certo punto ok le riducono ma quando si alzerà tantissimo è talmente grassa che il carbonante non bruciando del tutto va nel catalizzatore e produce dei danni enormi mi è capitato di vedere catalizzatori che diventano rossi rossi dal tanto carburante che c'è quindi immaginate arriviamo a 950 1000 gradi ok e questo ovviamente è deleterissimo per le valvole cioè non durano niente ok quindi se volete un'auto GPL tenete conto questi punti fate magari è sempre meglio andare a comprare una vettura che non è nuovissima perché se è nuovissima poi le rotture di balle ce le avete voi perché è vero che il costruttore un po' di collaudo l'ha fatto ma tante volte il collaudo effettivo lo fa al cliente soprattutto negli ultimi periodi quindi attenzione prendete un prodotto collaudato informatevi se ha le valvole rinforzate e se tutto il resto del contesto vi va bene prendete pure la macchina ah un altro discorso il fatto di usare la vettura a benzina più spesso di non usarla mai quindi perché tanti dicono oh minchia ma parte a benzina ma non basta perché la benzina poi invecchia e vi spacca tutto l'impianto di iniezione a benzina e vi trovate tutto pieno di ruggire quindi io consiglio di massima ogni quattro viaggi uno ve lo fate a benzina ok ve lo fate a benzina andate tranquilli e vedrete che di problemi ne avrete pochi e poi affidatevi a qualcuno che conosce il sistema e ogni tanto ogni 60.000 km vi rifaccia la carburazione GPL come se faceva una volta con il motorino con la vitina ecco non è una cosa impegnativissima si può fare basta un appuntamento di una giornata e vi consente di far lavorare gli iniettori alla pressione giusta e di controllare anche che la carburazione non sia errata ma cosa abbiamo qua davanti a noi allora parlando di GPL questa fa proprio caso nostro perché si sono consumate le valvole che vi avevo fatto vedere prima e adesso poi vi spiego un po' qual è il lavoro che abbiamo fatto va che bellezza va che bellezza vedere tutto lucido ragazzi è da orgasmo qui abbiamo il nostro bicchierino questo qua ragazzi è il bicchierino questo è un bicchierino questa è l'albara cam che va a premere sopra il bicchierino e fa scendere la valvola così no adesso in questo caso in situazione di semiriposo quindi è così più alta quando arriverà sull'oliva sulla punta dell'oliva la valvola scende cosa succede che con le alte temperature la furia di battere si consuma qua si consuma questo ok si consuma qui sopra questo qua la sede si consuma e la valvola se ne sale per cui il bicchierino poi nella situazione di riposo quindi a questa altezza qua batte ancora qua ok il bicchierino la valvola sale troppo qui si consuma sale e qua non andrà più in riposo quando è qua la valvola dovrebbe essere chiusa d'accordo ma cosa succede? succede che appunto c'è da fare il gioco valvola in questo caso poi bisognerà andare a smontare questi bicchierini e mettere degli spessori all'interno eccoli qua e mettere degli spessori all'interno in modo tale da far sì che quando l'albero a cama arrivi su questa parte dell'oliva effettivamente ci sia lo spazio per chiudere se no mi rimane giù e mi rimane aperta in pratica non deve essere assolutamente premuto questo bicchierino ma deve esserci dello spazio di solito è sullo scarico 0,25 cioè qua 0,25 e sull'aspirazione come questa 0,20 perché? perché lo scarico essendo che le temperature sono più alte è previsto un gioco delle valvole un po' più alto appunto per garantire un'usura maggiore una durata maggiore quindi su questa su questo veicolo in particolare si è smontata tutta la stesta si sono sostituite le valvole di scarico si è dovuto rifare il gioco delle valvole qua e adesso stiamo rimontando tutto bisogna poi tenere conto che questi qua che sono aggeggi malefici bisogna andare a controllarli che sono i variatori di fase che possono anche loro poi dare problemi perché dentro c'è una molla e fa variare appunto la fase dell'aspirazione in questo caso dello scarico dato scarico questo si muove grazie all'olio che passa di qua e va un po' e va a regolare lo scarico per garantire motori più pieni ok e un funzionamento in più range di giri va bene ragazzi divoratori di informazioni di motore io mi tolgo i guanti e spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tolto qualche dubbio riguardo questa motorizzazione piano piano ne faremo altri un po' sui libri un po' sui benzina un po' su ancora il bene amato diesel perché tanti adesso lo stanno disprezzando oddio che poi sono i capocchiali in alto che in realtà lo disprezzano non la gente ma comunque discorso a parte e andremo a analizzare un po' i vantaggi e svantaggi di una motorizzazione perché non esiste poi la motorizzazione perfetta ma esiste un po' quella che è la nostra esigenza se voglio un'elettrica e non ho il garage non so dove cavolo caricarla che cazzo me ne faccio eh non è che tiro giù il filo dall'appartamento e lo butto in strada cioè non esiste quindi ragazzi grazie dell'attenzione e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti